Buonasera, siamo arrivati alla 790, è un piacere l'incedere di questi numeri, voglio arrivare a 800 in velocità. Saluto intanto il mio caro amico Angelo, oggi saluto solo te, anche perché non ho altre persone da salutare, non c'è un motivo particolare, anzi no, oltre a te Angelo, un abbraccio, c'è l'amico di Salerno, Francesco Caserta, Salerno, io non ho ancora capito dove cavolo sei, però se nei nostri cuori, nei nostri pensieri ti vogliamo bene, grazie, Francesco peraltro avessi 4-5 clienti come te, che nell'arco di due mesi mi hanno anche acquistato 4-5 orologi, non sarebbe male, grazie, spero di averti accontentato, tu a noi sicuramente ci hai accontentato. Bene, allora ricordo, saluto tutti gli amici delle varie piattaforme, Instagram, TikTok, YouTube, YouTube ragazzi, per chi non l'ha ancora fatto vi iscrivete, se vi iscrivete avrete le notifiche e poi per quello che riguarda le novità, sarete tra i primi ad essere avvertiti di ciò e quindi sarete sempre sul pezzo. Molto importante, se avete da proporci qualcosa, utilizzate Whatsapp oppure il sito, mi mandate foto e coordinate, io vi do i valori e da lì poi se vi interesserà proseguiremo. finanziamenti, tutti gli orologi che voi vedete potranno essere finanziati da un minimo di 12 a un massimo di 60 mesi, cifra massima 25 mila Euro, ricordo nella regione Lombardia, poi se voi ci contattate, visto che ormai tra la rete, tra tante cose, ormai ci contattate da tutta Italia e anche da fuori, ci avvisate e vediamo di organizzare, però diciamo che la finanziaria opera con noi direttamente in Lombardia, importante perché ho avuto già diverse occasioni. Fra le altre cose guardate che ho l'avvisaggio, mi hanno avvertito, c'è un leggero incremento di quello che sono le vendite col finanziamento, perché tanto i tassi sono abbastanza regolari. E' ritornato, vi faccio riflettere un secondo, c'è l'inflazione, ormai l'avete capito tutti, basta solo vedere cosa pagavi al ristorante sei mesi fa e cosa paghi oggi, così almeno la faccio facile. Se c'è un'inflazione, i prezzi aumentano e quant'altro, se tu compri un oggetto, invece di spendere due, tre, quattro mila euro per un qualcosa che una volta che smetti di indossare non ha più valore, cerchi di acquistare, metti quei due o tre mila che vuoi comprare per quella cosa e poi il resto lo finanzi, arrivi magari a una cifra che può essere sei, sette, otto e puoi comprarti sicuramente un oggetto che lo pagherai magari nell'arco di tre, quattro anni, lo paghi una cifra che non ti crei difficoltà nel procedere della tua vita normale, costi e quant'altro, alla fine corsa ti ritroverai un oggetto che hai utilizzato e che si sarà rivalutato. Questo lo dicevo in tempi non sospetti, poi c'è stata tutta la coda della bolla, ma guardate che ancora oggi si è ritornati a quello che era prima della bolla, quindi le cose normali. È stata una fase abbastanza lunga, però molto invasiva, tant'è che ne stiamo pagando ancora tutti quanti le conseguenze, però questa è una cosa che mi sento di dirgli. Allora partiamo subito con il bagnoir, allora signori questo è un orologio spettacolare, la cosa interessante normalmente, intanto è grande, è alto 42, per cui stiamo parlando di un orologio di misura importante. Il vantaggio che ha, proprio per renderlo così facile da indossare, è che è stata fatta questa forma incava, cioè Galbet, praticamente i due lati esterni, la parte centrale c'è il movimento, vedete? Normalmente questi sono orologi che in passato venivano realizzati solo al quarto. Qui Cartier, la vista un po' più lunga, ha inserito un movimento manuale, in più poi, avendo fatto questa forma ellisse, o loro la chiamano bagnoir, e Galbet all'interno, rende la possibilità di tenerlo stretto al polso, col cinturino, e di poterlo indossare in maniera corretta, senza che dia fastidio, anche per quei polsi che non sono molto grandi. Guardate, è molto bello sullo schermo, ma vi garantisco che dal vivo lo ha ancora di più. L'orologio è nuovo, completo di scatola garanzia, rispetto, lo vendiamo a 23,5, ma è nuovo. Se voi andate in rete, quelli usati sono più cari di questo, ok? Bene, proseguiamo. Altro Cartier, il Ballon Bleu, questo è un orologio automatico, molto interessante, perlomeno fa parte della linea acciaio di quelli che hanno avuto un attimino, sapete che le linee sono tradizionali, sono Cartier, sono Santos, Panthère, il Ballon Bleu, Tant Francais, cioè sono tutte queste serie che hanno avuto comunque un ottimo ricordo, sono le donne che portano solo Cartier, quindi l'orologio è nuovo, completo, anche questo il diametro è importante, è un abbiamo un Tudor, Tudor Black Bay, nuovo, completo, la richiesta, 3.800 euro. Omega, questo fa parte di una serie limitata, Spirit Tuesday, è una serie, ne hanno fatte talmente tante di serie speciali per lo Speedmaster, questa è una dei tanti, la richiesta, 11.500, andate a vedere di che orologio stiamo parlando e subito dopo sempre Omega, guardate questo è un orologio che non è più in produzione ed è un rattrappante Seamaster, quadrante damascato, stiamo parlando di orologio nuovo, completo di scatole e garanzia, io ho diversi amici concessionari che quando dismettono la concessione c'è un passaparola e sanno che mi devono contattare, perché io cerco sempre di prendere le linee che non sono più in produzione, possibilmente nuove, proporle con un prezzo accattivante che rispetto alla collezione attuale fai fatica a comprare perché i prezzi poi raddoppiano, con questo qui è un orologio che oggi non costerebbe meno di 9-10.000 euro, è un rattrappante, i crono costano intorno ai 7 o 8, vedete voi, automatico, sto parlando non di carica manuale, lo Speedmaster più o meno a 6,5 così lo trovate, ma automatico non trovate, a meno di 10-9.000 non trovate niente, il coassiale in modo particolare, questo rattrappante nuovo compreso il cattolo e la garanzia, 4.000 euro, ricordo il rattrappante al tasto, vedete a ore 10, che serve per i parziali, in poche parole, se io voglio cronometrare dal chilometro diciamo, parto con quello a ore 2, lo schiaccio e poi se voglio il parziale, diciamo i primi 500, ai 500 schiaccio il tasto a ore 10, mi si blocca una raccetta ma parte subito l'altra e poi al chilometro bloccherò con quello sopra sempre, guardate che stiamo parlando di orologio che tiene i parziali ma è meccanico, quindi cambia completamente, normalmente sono digitali, digitale sapete benissimo, stiamo parlando di quarzo, qui quando si parla di meccanico si parla di tecnica, si parla di complicazioni per un rattrappante elevate al cubo, va bene e questo era l'Omega Seamaster Crono rattrappante, subito dopo abbiamo il portoghese, allora vi abbiamo fatto vedere l'altra volta quello con le ore blu che era un'alternativa sempre con il quadrante bianco, che era un'alternativa a quello che è il classico tradizionale portoghese che è sempre stato questo, quadrante bianco ore dorate, lo dico perché alcuni di voi non lo sanno, io vi garantisco che il portoghese Crono deriva dal portoghese classico solo tempo, quello che aveva il fondo a vista e quello con il movimento a tre ponti e che avendo smesso di farlo hanno fatto il Crono cercando di proseguire la linea estetica del portoghese per meno per quello che riguardava quadrante e ore che erano fatte in questo modo. Molto bene, allora volevo ricordare che questa è la settimana, questa è entrante, la settimana dove Rolex, visto che mi avete chiamato in molti, ma che novità ci sono, ma chi le sa le novità ragazzi, io qualche gola profonda ce l'ho, però non è che stiamo aspettando, poi vi dirò la verità, una volta mi veniva chiesto più di quali erano le novità, quali erano gli orologi che venivano dismessi come produzione, questo quando le cose erano un po' diverse da oggi, oggi mi chiedete le novità e va bene, ma io ritengo sempre che sia più interessante sapere quali sono gli oggetti che non vengono più prodotti, anche perché siccome tutto sta ritornando come prima della bolla e ritornerà in ogni modo, e cioè il mercato è sano, l'ho già detto tante volte, un mercato tranquillo dove l'incremento viene dato solamente dalla richiesta, dal fatto che al pubblico piace, quindi viene acquistato con quell'ottica, dopo di che poi se il meccanismo prosegue anche a un incremento di valori, quello verrà fatto come in passato graduale, non come era successo nella bolla, ok? Quindi questo per quello che riguarda Rolex, state attenti, dopo il 9, il 10 andate in rete e vedrete già tutte le novità, poi non ho bisogno di dirvelo, perché voi lo sapete meglio di me, però è importante essere sempre informati, sapere quali sono le cose che… pensate che noi che viviamo nel mondo degli orologi abbiamo sempre questa necessità di capire un attimino prima quali sono le cose che verranno fatte, giusto per prendersi qualche vantaggio, poi non c'è verso, nessuno sa niente, sono bravi, sono diventati bravi in Rolex, una volta si riusciva ad avere qualche indicazione prima, adesso fino a quello che sarà il 9, fino dopo il 9 non si sa nulla. Bene, è questa per quello che riguardava il discorso Rolex, a questo punto ho in mente un'altra cosa da dirvi, ma vorrei procedere con un po' di orologi oggi, questo è un Submariner acciaio e oro, la referenza è 16613, quando parlo di referenze a 5 cifre, voi che mi seguite sapete che io sono molto più propenso a prendere in considerazione questo genere di orologi, piuttosto che le referenze a 6 cifre, che sono quelli che hanno cominciato ad essere prodotti dal 2011, 10, più o meno, 12, quegli anni lì. Perché? Perché non so per quale motivo a me personalmente, ma parlo solo del mio gusto personale, mi finiscono meglio? In più, quando trovo condizioni pari al nuovo, perché questo Submariner acciaio e oro è in condizioni spettacolari, non è facile, non è facile trovarli, allora se ci sono persone che la vedono come sottoscritto e capiscono quello che intendo dire, questo è un orologio da non perdere di vista e soprattutto da prendere in considerazione. Completo di scatole garanzia, se vi dico un valore da 1 a 10 come qualità, siamo sul 9,5, mancano solo le pellicole, ma l'orologio è come se fosse pari al nuovo. La richiesta è 13.500 euro, l'orologio è un 2008, quindi numero in Rio, carta di credito e ovviamente la deployant bicolore. Lo dico perché subito dopo abbiamo un sultan. Allora ragazzi, forse per i più giovani diventa un po' difficile, io mi ricordo che quando avevo 35, 40, dicevo ma chi è che mette su un orologio, me lo spiega, ma tu li conosci quanti sotto? Di cosa stai parlando? Quello che hanno i diamanti, i zafferi, i diamanti i rubini, ma io quella roba lì non la voglio neanche vedere. Oggi, vedete come passa il tempo, oggi che sono nella fase calante della situazione generale, questo è un orologio che io ritengo eccellente, mi piace da matti. In più, questo abbinamento con il quadrante champagne, che a me non è mai piaciuto, ma essendo virato il quadrante, quindi un po' spento, risaltano di più i diamanti di zafferi, qualcuno dice, spedo, se risaltano di più, è l'orologio dei abbinanti a me non fa… No, ma è un giusto compromesso. Guardate, forse sullo schermo non rende l'idea, ma vi garantisco che è eccezionale. E poi comunque ha sempre quella cosa che rende l'oggetto unico, e cioè il fatto che il quadrante sia virato, è tutto lì il fatto. Se voi pensate o andate nel vintage, i collezionisti, quelli che quando hanno il quadrante virato originale, hanno sempre qualcosa in più, come richiesta anche perché sanno che uno così uguale è difficile trovare. Il prezzo di questo è 15.500 euro. su Mariner 16610, scatole garanzia, lo vendiamo a 9.000, lo mettiamo il prezzo, lo correggiamo al volo perché mi sono reso conto che, vedete che noi cerchiamo sempre di stare attenti con i prezzi, già abbiamo vissuto qualche esperienza. Comunque l'orologio è un 91, l'ho già detto tante volte però, è fondamentale. L'ha fatto con me anche un collega commerciante che mi dice ti posso mandare la mia chat, ho diversi orologi ma che ti possono interessare. Io vedo i prezzi e dico sei un 10% più caro, mi fa, ma dipende dalle condizioni. Mi è venuto da ridere, ma come? Vedo le cose che dico io e vengo colpito con le mie stesse armi. Va bene, vi garantisco, le condizioni dei nostri orologi sono sempre un pelino. Qui faccio lo smargiasso, qui vi dico generalmente rispetto alla media dei miei colleghi, noi abbiamo una qualità leggermente più interessante. Mi fermo lì perché non è che posso fare troppo richiesta, dicevo 9.000 Euro, l'orologio è un 91. Intanto colgo l'occasione per diversi di voi che hanno collezioni. Lo dico perché evidentemente mi sono reso conto che non è sufficiente dirlo una volta ogni tanto, devo dirlo sempre. È inutile che mi mandate voi collezionisti che siete quelli che nella prima ora avete una collezione pazzesca e che magari volete fare qualche operazione, ho già detto che in questo momento è meglio non vendere. Se però l'occasione è, vendo perché poi compro un'altra cosa e quella cosa mi interessa e rientro lo stesso di quello che può essere il gap dove vado indietro, allora lo faccio. Altrimenti state fermi, non fatemi ogni tanto, spedo questi due orologi, ogni tanto c'è qualcuno che mi dice cosa valgono adesso. Ma guarda, me l'hai chiesto 8 mesi fa, ma va che devi far passare 2 o 3 anni qui perché le cose… ok? Quindi cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo che posso essere molto interessante per… e qui sto facendo sia il mio interesse che il vostro. Se avete degli orologi di prestigio e di un prezzo magari un po' elevato e tutto, in questo momento in cui si può pasturare, cosa vuol dire? Voi mi lasciate l'orologio in conto vendita e io pasturo. Guardate che, lo dico perché qualcuno mi ha mandato la mail, spedo comprare gli orologi e non fare… io gli orologi li compro, non è un problema, ma dipende qual è l'ottica di chi mi dà l'orologio. Se il cliente che vuole vendere l'orologio rientra nella fase degli acquisti di oggi che è vendi, incassa e pentiti, allora io compro. Siccome a me già… io queste tre faccio fatica, però capisco anche che ci siano persone che magari hanno di bisogno o hanno delle necessità. L'altra volta c'era un cliente e mi diceva, ma ecco io se sblocco perdo di più dall'altra parte, prefisco lasciare tutto fermo, perdo qualcosina di qua, vabbè, ok? Questa è un po' l'ottica. Allora, dicevo, mi date l'orologio, io lo pasturiamo e già questo è un momento giusto per pasturare. Perché vi sto dicendo questo? Perché il mercato, ma non solo quello degli orologi, perché io ho parlato con tanti colleghi, è in impasse, il momento è abbastanza calmetto, ok? Adesso non vuol dire che mi chiamano quelli bravi, spero ti paghi con tanti che prezzo mi fai, no, allora no, lo spero, questo lavoro qua non funziona, al limite lo faccio io, ma non lo faccio perché vedete che sto dicendo, piuttosto di fare questo, dico, mettiamoci insieme, perché io giovanotto, tu che dici, io ho già le spese, tutto sto cinema qua, la televisione, il negozio, dipende, io ho già delle spese, non è che viene giù dal cielo al tutto, quindi mettiamo in funzione, invece di tenerlo nel cassetto, me lo date, pasturiamo e poi, guardate che io ho tanti clienti con cui faccio questo tipo di politica, questo tipo di politica per cui, se avete sentito il rumorino, sono io che ho il piedino nervoso e allora ho il piedino che si muove e la scarpa, adesso cercherò di stare fermo perché mi hanno detto che è un rumore fastidiosissimo, va bene, l'importante, ma le mie parole sono più importanti del rumorino fastidiosissimo, dai, va bene, comunque ok, ci siamo, siamo rimasti sul pezzo, guardate, visto che siete in tanti, che dite, spero, sembri una persona corretta, io vi dico delle cose, ormai non ho più quella necessità di dover vendere a tutti i costi per poter fare, no, io ho raggiunto un'età abbastanza serena, che è quella di chi conosce il mercato, dà dei consigli, ovviamente anch'io qualche volta sbaglio, ma sbaglio meno di altri, sì, forse sono fortunato, no, però sbaglio meno di altri perché ho sbagliato anch'io durante la bolla, perché c'è qualcuno che ogni tanto va a toccarmi il nervo scoperto, ragazzi, era un'esperienza nuova, giuro che anch'io sono rimasto col cerino in mano, però quello che voglio dire è che avendo il mercato, essendo nel mercato da tanto tempo e poi avendo un certo tipo di esperienza è il fatto che il déjà vu aiuta, ci sono delle code, delle situazioni, delle vissute già in passato che ti si ripresentano nel tempo e questo è un vantaggio per quelli come noi, come me, intendo dire un po' datati, quindi dateci, datemi la chance di suggerirvi, poi voi andate a vedere, siccome io questa qui è una cosa che ho sempre fatto, andate a vedere in passato quello che dicevo, andate a vedere se avevo ragione oppure no, rimane il fatto che la voce orologio rimane una voce nella sfera degli investimenti, poi voi direte, sai che bell'investimento che farei adesso, io vi dico, ragazzi, i prezzi sono scesi rispetto al passato, recente ovviamente, sono scesi abbastanza, qualcosina per quello che il mio, scenderà ancora, ma poi a un certo punto c'è che spinge il mercato che ripartirà e i prezzi che salgono con un'inflazione, sono tante le voci che possono spingere per un certo tipo di ripresa del mercato, quindi, quindi, ritornando a quello che dicevo, mi date degli orologi, quelli particolari e cominciamo a pastorare. Poi, siccome mi è capitato spesso di trovare delle persone, l'età può essere tra i 60 e i 70, che hanno collezionato nel tempo orologi anche furbi, anche di una certa, alcuni vanno a 360 gradi, per cui, vabbè, ci sta che abbia preso quello che era furbo, che è diventato poi di valore e quello che invece è una chiavica, come diceva il napoletano amico mio. Quindi, poi ci sono invece quelli che sono sempre stati oculati e che hanno una bellissima collezione, arrivano al punto e si rendono conto, caspita, spedo, ho due figlie, ma anche due figli uguali, che non gliene frega niente degli orologi. La moglie che dice ma vendeli, e io arrivo al punto, mi piange il cuore, ma ecco, queste sono persone, per esempio, che qualcuno è venuto da me. Ecco, io parlo a queste persone, consideratemi, tenetemi presente, che nella vita non si sa mai, poi possiamo cominciare, voi avete modo, venite, mi contattate, parliamo, ho avuto un altro signore che mi aveva dato un aquanaut per vedere un attimino come si poteva operare. Abbiamo fatto diversi test, alcuni sono nati molto bene, altri, va bene, abbiamo, come dire, perso solo del tempo, ma lì è l'imponderabile, non è che possiamo, io non è che posso garantire nulla, d'altronde quando mi alzo la mattina è tutta incertezza, fin da quando sono nato, qui c'è l'incertezza latente, per cui è una scelta di vita, no? O fai, come dire, l'indipendente, però ti prendi tutti i rischi e quindi ti diverti quando le cose vanno bene e ti diverti meno quando le cose vanno male e ti passa il sonno, oppure fai un'altra scelta e hai la vita un attimino un po' più tranquilla, da certi dicono piatta, altri dicono tranquilla, bisogna vedere una scelta di vita, ok? Quindi spero di essere stato chiaro, mi contattate, io vi do dei valori, vi do delle indicazioni, capisco che molti di voi in questa fase sono abbastanza bloccati perché non riescono a capire se questo mercato sta ripartendo, che cosa sta succedendo, se… ma ragazzi non è solo il mondo degli orologi, io parlavo con un mio amico che tratta accessori, cose per… e lavora anche con la Fiat, graffette, macchine che fanno graffette, tutte cose di questo dio, mi dice, ma ecco, siamo fermi, siamo inchiodati e questo è per l'industria e quindi è ancora peggio, è ancora… quindi va bene, sono fasi, ci sono delle fasi in cui il mercato si ferma, poi riparte, è sempre stato, il grafico è sempre… quindi non siamo disperati, non siamo contentissimi, però aspettiamo e vedremo che le cose cambieranno in meglio. Ok, andiamo avanti adesso con gli orologi e questo è il 116, 610, il summarine, che è stato il primo con le 6 cifre per quello che riguarda la referenza, poi hanno fatto il 126, 41 mm, quello è il primo, questo è stato fatto 2009-2010, è stato fatto fino a qualche anno fa, tre anni fa, credo, fino al 2020, quindi una decina d'anni, noi abbiamo un nuovo completo, questo è un orologio, io ho sempre avuto questa cosa di servire persone che comprano e poi vogliono possedere, guardate che è una scelta, non è sbagliata né quella di possedere né quella di comprarlo uguale d'occasione, dove tu ne approfitti, te lo godi, lo porti e poi quando sei stanco lo vendi, spesso e volentieri, li vendi, porti a casa qualcosa in più dei tuoi soldi, però hai anche sfruttato il tuo investimento. In quante cose può capitare una volta del genere? Veramente poche, l'orologio ti permette questo. Allora, la richiesta 15.000 euro, queste le pellicole, poi senza pellicole li trovate 11 e mezzo, 12 e mezzo, 13, dipende dalle condizioni, quindi così andate, evitate di andare a vedere in rete, vi ho già detto io più o meno, proseguiamo. Questo è il 106-610 come quello nero ma verde, il problema che io ce li ho anche questo in pellicolato, però ecco mi ne entrano alcuni, abbiamo già venduto, usato bello come nuovo a 17 e mezzo, dai 16 e mezzo ai 18 e mezzo, il range è quello lì, ok? Dunque questo è nuovo e chiediamo 23 e mezzo, diciamo che non è ancora, è più interessante secondo me comprare quello usato. Andiamo avanti e qui siamo sempre su un'occasione però è un Fat 4, questo fa parte, è il Mark 1, è il primo prodotto, vedete, 16 e 610, quindi questo è stato prodotto dal 2003 al 2010 più o meno, questa è la prima fase del 2003, prodotto 4-5 mesi così e dopo poi è cambiata l'inserto, non ha più questo 4 così così la grosso, lo chiamano Fat 4 perché la parte interna è un trapezio, nel secondo tempo poi faranno il 4 che diventa un triangolo, è solamente questo, però voglio dire questo è il primo, seriali Y ed F, questo è F0, su richiesta, intanto voglio dire che il prezzo, andate in rete lo trovate a meno, andiamo avanti, spero perché li presenti, perché io ho dei clienti che vogliono vederli e poi mi dicono, spero dai vieni, facciamo una permuta, ti do, andiamo a vedere cosa costano in rete, dai vieni che ti do di guida, ha capito? Questo è un po', ragazzi devo sempre spiegare qualsiasi cosa io scelga di fare, però questo orologio, allora ascoltatemi attentamente, stiamo parlando del Submariner, questo è 41 in oro bianco, col quadrante nero e la ghiera blu, è nuovo, ha un prezzo di listino che è 44, 43,9, la watch and clock ve lo propone a 35 mila Euro, quindi ecco che vedete che già qui l'esempio, come dire, lampante di come le cose stanno ritornando lentamente come in passato, una volta su un orologio d'oro questo era normale, comunque vi garantisco che nel mercato ha questa cifra, nuovo, completo, il prezzo c'è, se ci sono persone interessate a questo genere di oggetti, siamo qui, andiamo avanti, ora andiamo su questo che è il Submariner, la referenza è 116,619, il blu blu, questo è, a tante persone è rimasto nel cuore questo orologio, piace tantissimo, io ragazzi vi dico, prezzo su richiesta perché non ho intenzione, mi piace tenere, mi piace guardarlo, è nuovo, è uno degli ultimi prodotti, per cui voi sapete bene che questi orologi, i primi e gli ultimi sono quelli più interessanti, perché hanno delle modifiche, magari nella parte finale hanno avuto, comunque, è qui, è anche questo, stesso discorso di quello di prima, nel caso con qualche cliente nostro possiamo vedere, di fare permute, vediamo, prezzo su richiesta, comunque in rete ho visto che meno di 50 non c'è niente, nuovi, completi, l'ultima, non dire, aspetta l'ho visto a 48, no ragazzi, nuovi con pellicole e con l'ultima produzione, quindi 2020, andate a vedere che i prezzi sono alti, subito dietro abbiamo questo orologio che mi avete snobbato, ma è una, questo è veramente un orologio da intenditore, da uno che, questo è il Seedweller ed è il primo Seedweller ceramica prodotto dalla Rolex, salvo poi modificarlo e fare scritta rossa, ma l'ho fatto dopo un anno, 14 mesi, quindi per 14 mesi questo orologio è stato prodotto così, il primo ceramica Seedweller, è nuovo, ecco le pellicole ed è un orologio raro in queste condizioni, richiesta 18 e 500, subito dopo il Seedweller scritta rossa, quello che è stato fatto in un secondo tempo, noi l'abbiamo a 17 e mezzo credo, a 16 e 8 abbiamo abbassato, sì ma comunque 16 e 8 questo e dell'altro cosa ho chiesto? 18 e 5, scusate ma io prendo in considerazione l'altro, questo è ancora in produzione e questo è uno degli oggetti che voci di corridoio dicevano, quindi fate caso, andate a vedere se Rolex esce e dice che questo Seedweller non lo produce più, qualora questo c'era anche il Cameron, qualora non li producesse più, ecco che diventano interessanti, perché la storia lo insegna, finisce la produzione, oggetto non più prodotto, numero chiuso, l'interesse comincia a esserci anche la parte di chi colleziona e quindi più sono i collezionisti, meno sono gli oggetti a disposizione, più sale il prezzo, richiesta domanda offerta. Andiamo avanti e siamo sul, allora, cerco di, questo è un GMT serie 310, questo è quello top, è quello, ma col calibro 31, no, perché ne ho due, uno col calibro 31,86, l'altro senza 31,85, scusate, non senza, l'altro calibro. Allora, questo è il calibro 31,85, l'orologio è nuovo, completo, in rete, vabbè, col calibro 31,86 non ce n'è, nuovi con pellicole, ce ne abbiamo solo noi, senza, ce ne sono pochissimi e comunque la richiesta per questo è 30 mila. Dopodiché ce l'ho anche sempre con la pellicole nuovo, con la ghiera nera e con il label, l'etichetta, che dice sulla referenza che è nero, quindi è tutto perfetto, coevo, con pellicole e quant'altro. Il nero 28 mila, ok? Qualcosa a meno del Pepsi, perché comunque il Pepsi degli sportivi, lasciando perdere il Daytona, degli sportivi è quello che ha sempre avuto più appeal. Eh? Bene, proseguiamo. E qui siamo sul, l'ho presentato l'altro giorno, comunque anche negli short, è un serie 610, cos'è l'anno di questo orologio? Un 95, 94, ti ricordi? 91. Però guardate ragazzi, le condizioni di questo orologio è veramente sono perfette. Allora, le condizioni di questo orologio qua è perfette, non ha la garanzia, quindi ha un prezzo consono e cioè 9 mila. Questo è l'orologio, per esempio, che un signore che dice, no ma io voglio comprare gli orologi per mettermeli. Allora, ok, ti compri questo orologio, lo paghi oggi 9 mila euro e magari hai 3-4 mila euro a disposizione perché vorrei comprare, che ne so, un altro orologio. Metti 4 mila euro e fai il finanziamento. Fai 4 anni di finanziamento, non lo so, a 100-150 euro al mese. Fine corsa, finito di pagare, hai un orologio che ve lo metto per iscritto e sicuramente ve lo siete portati, l'avete goduto e potete tranquillamente venderlo portando a casa più di quello che avete speso, ve lo metto già per iscritto. Lo compro io, fate come ho detto e poi venite qua a rivendermelo, lo portate come Dio comanda e io vi garantisco, ve lo metto, lo speso se lo ricopra a più di quello che lo state comprando. È ovvio che devono passare 4-5 anni, però sono convinto di quello che vi sto dicendo, che era quello che dicevo anche in passato, parlando prima del 2000, così ci diamo un tempo ben definito. 9 mila, la garanzia del negozio ovviamente e poi abbiamo qui un Daytona, questo è nuovo con pellicole, Chroma Light, scatole garanzia, nuovo completo detto di tutto, l'anno è 2016 e la richiesta 27 mila, qui c'è un bel prezzo, poi oggi un nuovo completo, non più in produzione, cioè 27 mila pagate anche il ceramica nuovo, vedo che i prezzi sono scelti, pagate l'usato, l'usato bello del 2020, prendete il ceramica, e lo pagate queste cifre, ma questo è nuovo e non lo fanno più, ok? Vi ho dato il riferimento, così potete vedere, non lo so, ho avuto l'impressione che è come se mi passasse sotto i piedi un gatto. Va bene, allora vi rendo partecipi, ma capisco che siete partecipi di una cosa che non può interessarvi, andiamo avanti, Explorer 16 570, completo di scatole garanzia, orologio in condizioni eccellenti, l'anno è il 1996, la richiesta è 8,5. Dunque, proseguiamo, tutti i orologi con scatola garanzia, signori sono orologi che noi abbiamo ritirato, che abbiamo mandato in laboratorio, il laboratorio ha il nostro litere, orologi che vengono smontati, lavati, controllati, se nel caso revisionati, altrimenti non revisioniamo, perché se vanno bene, li consegniamo in condizioni di movimento che è nel range e quindi voi sapete le alternanze sono quelle che ci indicano se l'orologio è in condizioni buone, dopodiché poi in un secondo tempo, se ci sarà bisogno di revisionarlo, saremo a disposizione e vedremo di trovare anche un prezzo congo, anche perché la revisione costa 4, 5, 600 Euro a secondo dell'orologio, noi comunque ovviamente per i clienti che hanno comprato orologio da noi avremo un occhio di riguardo e un prezzo, come dire, accattivante per quello che è, ok? Cerco di essere il più chiaro possibile, poiché ormai i margini sono talmente tirati, per cui siamo costretti, lo Yachtmaster completo scatola garanzia, il Rolesium, 9.500 Euro, questo è un 41 mm Oyster giallo, non dovrebbe essere più in produzione, è nuovo, è completo, 20.000 Euro alla richiesta. Stiamo entrando nella fase del colorato, il colorato vedrete che adesso comincerà ad avere un po' più di appeal, normalmente si parte da aprile-maggio e fino a quello che riguarda l'estate, il colorato ha appeal. Andiamo avanti. E questo è un Wimbledon nuovo, completo, scatola garanzia, 41 mm, ghiera in oro bianco, la richiesta, 13.500 Euro. Qui abbiamo un Dayjust, 16.200, ghiera liscia, l'orologio è, non mi ricordo più se questo è completo o incompleto, il 16.200, Dayjust, 40 bianco e le romane applicate. No, è incompleto, garanzia del negozio, 5.800 Euro alla richiesta. Subito dopo abbiamo il Dayjust, 36, acciaio e oro, bracciale, giubilè, anche questo quadrente bianco e le romane applicate, completo di scatola e garanzia, richiesta 7.500. Poi andiamo avanti e qui abbiamo l'Oyster 36 Tiffany, orologio nuovo, completo. Ho già detto tante volte, quando vedete i colorati dovete fare attenzione, dovete conoscere le persone da cui le acquistate, perché purtroppo c'è qualche commerciante che fa il magheggio e cioè mette il quadrante di fornitura. Come si vede il quadrante di fornitura da quello originale? Eh ragazzi, vi posso dire che nel caso specifico nostro noi vendiamo gli orologi che hanno la targhettina Rolex e ha un numero di riferimento per il quadrante, per cui per quello che ci riguarda noi acquistiamo gli orologi in quel modo lì e li vendiamo in quel modo lì. Dopodiché, per gli altri, fatevi segno della croce oppure vi dovete trovare un commerciante che sapete che è corretto. La richiesta per questo orologio, 13.8, sì scusate, 13.8, ok? Andiamo avanti. 31 mm è questo BOI, acciaio, nuovo, completo, scatole garanzia, 178,240 è il day just 31 mm, nuovo, completo, richiesta 6.800 Euro. Subito dopo un Lady 31, BOI 31, acciaio oro, completo di scatole garanzia, 5.800, poi abbiamo finito con i Rolex e andiamo su Bulgari, Bulgari, scatole garanzia, cassa bronzo, 4.300 Euro, nuovo, completo e però ragazzi qui me lo state snobbando, ma guardate che 4.500 Euro, andate a vedere i prezzi dei grano, nuovo, completo, scatole garanzia, ok? Overlord è una serie limitata, ok? Il Frank Conquistador, questo orologio nuovo, completo, scatole garanzia, a 4.500 Euro, un solo tempo, anche questo è molto grande, ma ha di bello che, vedete, Galbè e quindi essendo di forma, per intenderci a banana, mettiamola così, così vi rendo la vita più semplice, al polso sta molto, fascia al polso, quindi non dà fastidio, ecco la cosa più importante. Proseguiamo con i Dietrich, Marlen Dietrich, allora Dietrich sono due orologi automatici, sono orologi prodotti in Svizzera, il marchio non è ben conosciuto alla massa, sono nuovi i completi di scatole garanzia, 1.400 Euro uno per l'altro e mi fermo qui. li chiamano vagamente le linee tipo Richard Mill, piuttosto che Richard Mill sono ad altre cifre, comunque, trasparenti come vedete, il movimento a vista. Ok, proseguiamo. Qui abbiamo invece, ah ma qui abbiamo proprio un campionario di eccellenze, no è che perché ogni tanto qualcuno ci dice, ma speso facci vedere qualcosa da non spendere molto, allora le ragazze qui mi seguono e mi dicono dai metti queste cose che costano poco, effettivamente le stiamo vendendo perché il cielo-terramare ne avevo 8, ne sono rimasti 4, il cielo-terramare è la stessa, vedete che c'è la mano, richiama qualcosa qui dell'Ivc perché chi distribuisce, una volta distribuiva Ivc, gli è rimasto nel cuore quel genere di oggetto. Comunque il crono, terra-celo-mare, mille e due, il solo tempo mille, stiamo parlando diametri 42, ok? No, 44, quindi ancora diametri più importanti. Poi sempre il cielo-terramare, terra-celo-mare, se non si arrabbiano qua, abbiamo questo che è un PVD, solo tempo, 3.500 Euro, questo è molto interessante, è una serie limitata, vediamo, vedete al retro, eccolo qua, virata, sbandamento, questo c'è tanto da dire, ma lo spero su questo orologio qua, è abbastanza non informato, quindi ve lo faccio vedere, è una serie speciale, d'altronde era dedicato ai Sorci Verdi, che era quella compagnia di bandiera italiana di aviazione, era proprio di Sorci, era lui, era lui, questo era quello che di fatti probabilmente ce l'ha segnato, che però è assegnato a chi non lo so, visto che, vabbè comunque, vedi che lì c'è la numerazione, va bene, va bene, va bene, andiamo avanti, l'ultimo di oggi, terra-celo-mare, eccolo qua, il Crono, 2.500 Euro in cassa in ceramica, bene, allora questi erano gli ultimi orologi, voi direte, no, Pedro, ma una volta le tue trasmissioni avevano un po' più di euforia commerciale, cioè vedevi tanti orologi col prezzo, interessanti, allora sono tante le situazioni per cui, messe insieme, portano a una fase di impasse e quindi io vi sto facendo vedere delle cose, alcune commerciali, alcune interessanti, quando io mi sono soffermato su su mare e d'oro bianco è l'oggetto oggi, secondo me, più interessante per quello che riguarda anche il prezzo, poi vi abbiamo presentato anche altre cose nuove o particolari, però diciamo che il momento, non essendo brillante, non permette di avere novità, novità con un prezzo che siano, perché anche chi vende o scende dal prezzo medio, anche tra commercianti, sto dicendo, oppure siamo tutti lì, in impasse, aspetta, il mercato si muoverà, però al momento ci stiamo guardando intorno, devo dire queste parole perché qualcuno di voi mi ha detto, aspetta, va bene, ascoltarti va bene tutto, però è anche bello comprare qualcosa da te, se tu proponi delle cose interessanti, ecco io sto cercando di fare questo, per esempio il Daytona, questo è nuovo, Chroma Light, con pellicole, 2016, andate a vedere i prezzi e capirete che questo è interessante, chiaro, non ne ho presentati 20 di orologi così, ce ne sono 3, 4, è un motivo per tenervi attenti sugli oggetti che abbiamo. E poi suggerirvi un attimino di guardare intanto in rete, dopo il 9, il sito della Rolex e anche gli altri siti, perché poi non è detto che ci siano solo orologi che produce Rolex, che hanno, certo l'interesse, essendo il 60% del mercato degli orologi fatto su Rolex, è chiaro che va in battuta, però ci sono brand come Jaeger-LeCoutre, come IWC, come Audemars, come Breguet, andate a vedere le novità, andate a vedere, credo che ci sia proprio subito dopo, in riferimento a Ginevra, ci sia proprio qualcosa dedicato esclusivamente alle novità di Basilea, che è generico, invece voi dovreste andare proprio a vedere nel sito di ogni marchio, perché è nel sito e nei meandri che voi trovate quelle cose che ritengo possono essere simpatiche e interessanti. Un'altra cosa è invece vedere le cose che non lo sono più in produzione e quindi già intuire che molte volte alcune cose vengono dismesse perché l'appeal è da parte del pubblico non interessante, mentre invece molti altri vengono dismesse di produzione non si sa perché. Generalmente quando una cosa funziona e va bene non si sa perché, guardate che questo vale per tutte le ditte, sia per chi produce orologi, ma anche per chi produce auto, moto, è sempre stato così. In passato mi è capitato molto spesso, un'azienda che produce un articolo che ha successo, decidono di smettere, non lo so, avranno ragione loro, però secondo me… Quindi dopo le fiere, dopo Ginevra, anche in concomitanza ci saranno delle aste, quindi seguite anche quelle per avere un po' di indicazioni del mercato, seguite anche noi, continuiamo a rimanere in contatto e tutto questo vi servirà per essere sempre sul pezzo per quello che riguarda il mondo dell'ologeria e capire dove sta andando un po' il mercato. Se comincia a esserci un po' di ripresa, io sono il primo a dire, ragazzi, che qui le richieste stanno piovendo. Avevo detto gennaio e febbraio, il lavoro è stato molto veloce, mese di marzo no, mese di marzo è stato abbastanza tranquillo. Siamo in aprile, il trend è quello, c'è anche da dire che è la fiera, a parte le fiere, nel periodo delle fiere in effetti il mercato si era sempre fermato, anche in passato. Bene, alla prossima, da Marco Spedo e dalla Washington Clock, un saluto a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Watch & Clock dal 1989 sempre presente in Largo Settino Severo 3, Traversa di Corso Vercelli. Veniteci a trovare, vi aspettiamo.